L'annuale della marcia su Roma celebrato alla Smara. Il governatore dell'Eritrea, Sua Eccellenza Guzzoni, visita nuove costruzioni e opere stradali. La nuova casa dell'operaio alle porte di Asmara, intitolata da Arnaldo Mussolini. La donata dinanzi alla casa del Passo, presenziata dal governatore e dal federale, e la sfilata delle organizzazioni. La donata dinanzi alla casa del Passo, presenziata da Arnaldo Mussolini. La donata dinanzi alla casa del Passo, presenziata da Arnaldo Mussolini.